Lo sapete che c'è la possibilità di ricevere oggetti della marca Philips in maniera totalmente gratuita? Ciao sono Daniele per gli amici Subri e oggi voglio spiegarvi come poter diventare un tester Philips ma prima di farlo ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Quando qualche anno fa ho scoperto questa possibilità non ci volevo credere. Praticamente l'azienda Philips che produce piccoli e grandi elettrodomestici cerca costantemente persone disposte a prendere questi oggetti in maniera totalmente gratuita e fare delle recensioni, dei test per poi liberi di tenersi l'oggetto, quindi totalmente gratis. Beh ovviamente dirvi che è tutto facile, semplice e potrete ricevere giornalmente un sacco di oggetti gratuiti sarebbe una cosa completamente forviante ma diventare un tester Philips è totalmente gratuito e non costa nulla. Vi faccio vedere come si fa. La prima cosa da fare è andare nel link che vi lascio in descrizione il quale riporterà sulla pagina ufficiale di Philips che vi permetterà di diventare un tester. Proprio in questa pagina si troveranno i pochi e semplici passaggi da fare. Come prima cosa bisognerà selezionare il prodotto o i prodotti che si vorranno testare, ci si dovrà candidare e attendere l'arrivo del prodotto, se la candidatura ovviamente verrà accettata. Una volta ricevuto il prodotto si dovrà testare per 14 giorni e condividere l'esperienza sotto forma di recensione nella pagina dedicata. Dopo aver fatto tutto ciò e una volta che la recensione sarà confermata, Philips dà libera scelta al tester di decidere cosa fare. Potrà tenersi l'oggetto in cambio del tempo speso a fare il test e la recensione. Per poter diventare un tester bisogna iscriversi nel sito che vi ho lasciato in descrizione nell'apposita sezione in alto a destra. Ci sarà la possibilità di fare l'accesso rapido con l'account Apple Facebook oppure Google o in alternativa inserire tutti i dati richiesti. Questa registrazione oltre che per diventare un tester Philips sarà anche la registrazione al sito vero e proprio della Philips. Quindi potrà essere utile per qualsiasi ordine vogliate fare sul loro sito e anche per quanto riguarda la garanzia proprio dei prodotti della marca. Una volta fatto l'accesso vi ritroverete nella sezione dedicata ai test in corso ed anche qua ci sarà una breve spiegazione cliccando in alto sulla sinistra nel menu come funziona che spiegherà tutto il funzionamento del servizio. Come spiegato in questa sezione non c'è nessun obbligo a tenere il prodotto potreste anche restituirlo perché non vi è piaciuto oppure non vi siete trovati bene oppure tenerlo per poi venderlo regalarlo a vostra volta oppure usarlo. Nella home ci saranno due sezioni quella dedicata ai nuovi test dove quindi effettivamente vedrete tutti i test disponibili in questo momento quindi quelli ai quali potrete effettivamente candidarvi e l'altra invece che è adibita a tutti i test passati. Proprio in questa sezione avrete un'idea di tutti i prodotti che nel tempo Philips ha dato la possibilità di testare con relative recensioni che potrete ovviamente usare per prendere ispirazione da qualche recensione per vedere come gli altri effettivamente hanno fatto per descrivere un oggetto con tutte le sue funzioni oppure potreste anche rendervi conto se un prodotto ne vale la pena oppure no proprio grazie alle recensioni lasciate perché magari vorrete acquistare quel prodotto a prescindere. Invece nella categoria dedicata ai nuovi test potrete candidarvi a uno o più test semplicemente cliccando su candidati. Una volta cliccato sul tasto apposito verranno chieste diverse informazioni che varieranno in base all'oggetto selezionato mentre avendo fatto in precedenza il login con il vostro account personale i dati riferiti alle vostre informazioni personale saranno già compilati. In caso però ovviamente di mancanza di questi dati dovranno essere compilati al momento oppure se vorrete farvi recapitare l'oggetto in un altro posto che non è casa vostra. Una volta effettuata la candidatura arriverà in automatico un email che vi ringrazierà per esservi candidati al test e come riporta anche l'email entro 20 giorni avrete una conferma se eventualmente sarete idonei per il test dell'oggetto oppure no. Cliccando su svolgimento del test si andrà direttamente nella pagina dedicata alla spiegazione di cosa bisognerà fare nel dettaglio qual è il profilo del tester che verrà ricercato e tutti i passaggi da fare per svolgere e poter portare a termine il test del prodotto. Dipende ovviamente dal periodo dell'anno ma vi assicuro che i prodotti che si possono testare sono veramente veramente tanti. Si potranno trovare veramente tantissimi oggetti da poter testare ma il mio consiglio personale è quello di iscriversi a quelli che realmente potrete provare. In questo caso io ad esempio avrei potuto provare anche il biberon però non ho fatto neanche la candidatura perché non ho un figlio con cui provare questo tipo di oggetto e non avrei avuto neanche la possibilità di darlo a qualcun altro che potesse fare il test al posto mio e poi eventualmente gliel'avrei lasciato anche il regalo. Quindi veramente se non potete fare il test di un oggetto lasciate perdere perché poi la recensione non sarebbe veritiera. Un'altra campagna per la quale non ho dato l'adesione è quella che riguardava i due aspirapolveri o meglio ne ho scelto solo uno dei due quello che secondo me era il migliore anche perché avessi avuto la possibilità di testarli tutti e due sarebbe stato secondo me abbastanza inutile. Come ho fatto vedere in precedenza una volta che vi sarete candidati a qualsiasi tipo di test vi arriverà l'email di conferma e un'altra email dopo 20 giorni se effettivamente sarete risultati idonei o meno al test attenzione perché a quel punto vorrà dire che vi arriverà poi anche in automatico il pacchetto e dovrete fare la recensione mi raccomando onesta non è una gara a chi fa più recensioni a 5 stelle e non bisogna neanche elogiare il prodotto perché lo hanno regalato. Qua il concetto è fare recensioni oneste beh io spero di avervi illustrato al meglio come si diventa un tester Philips e come ricevere oggetti gratis di questa marca ma per qualsiasi altro dubbio domanda sezione commenti sempre aperta. Grazie